o la lucia d'ora e sedi inseguitori di lumache ben ritrovati dal vostro cacciatore silver qui su blood born nel dlc ve old hunter salvo detto che non ve l'avrei più detto e ve l'ho ripetuto ha 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 sono malvagio allora come sappiamo dalla parte di là dove c'è l'altro come dicevamo l'altro l'altra lanterna ecco sto per dire l'altro falò c'è ludwig il bestione però dato che di là c'è appunto l'arena del boss e mi è sembrato di intravedere che ci fosse anche un'uscita in fondo a sinistra abbiamo lasciato indietro una grotta poche palle e andiamo ad ispezionarla a io ok noi sappiamo che c'è il tizio con la gatling portatile che non è prettamente una cosa che ci rende felici però stavo anche valutando questa cosa che voglio condividere con voi questo mio pensiero questo mio atroce dubbio è una paura che mi porto dietro già dalla demo di dark souls 3 ossia il fatto che salve allora vediamo innanzitutto questo poi ci ragioniamo con calma pezzo di pietra del sangue ok perfetto perfetto cerchiamo di non farci ammazzare wow salve salvissimo non puoi sparare dal bel voo wow 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 ok 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 vai vai ma vaffan braccio di amigdala what non può essere una cosa così insana di mente oh aspetta pezzo di pietra del sangue mi sa che possiamo andare a riparare l'arma a riparare a potenziare l'arma poi torneremo qui a fare un giro perché non sono prettamente convinto che abbiamo raccattato tutto devo essere sicuro perché questa grotta mi sembra abbastanza a fondo chiuso infatti volevo esplorarla come ho fatto con il resto del livello e diciamo che ha portato i suoi bei doni di natale stavo dicendo comunque con questo pensiero me lo stavo portando da dietro nella prova di dark souls 3 quel beta test che abbiamo fatto alcuni di noi hanno fatto e che ho esposto anche in un video ossia che dopo aver imparato la strada già la seconda sera mi sono ritrovato a fare tutto il livello senza colpire nessuno in un minuto e 45 secondi tipo senza l'utilizzo di shortcut mentre invece con lo shortcut in una quarantina di secondi sempre senza colpire nessuno la cosa non mi è piaciuta granché perché questo toglie tantissimo nella curva di difficoltà del gioco cosa già successa con bloodborne allora innanzitutto usiamo una di queste che ne dovrei avere ancora sì perfetto avrei usato anche una più economica ma questo avevamo ok già che ci siamo allora dobbiamo innanzitutto rinforzare armi perché possiamo farlo possiamo permettercelo e ci torna gran utile la cosa sì perfetto oddio molto relativo ma sì dai sprechiamone un po allora ripararmi mi sono permesso di testarla e rinforzo con gemme del sangue non ne abbiamo trovate di interessantevoli che oppino quanto già abbiamo sì invece o sì o sì o sì cosa abbiamo equipaggiato qui dorata che potenzia l'attacco verso le belve e però se possiamo potenziare questo boh fra l'altro devo ringraziare anche il buon fabio boris king qualsiasi altro nome si sia appiopato perché mi ha fornito l'informazione che avevo richiesto sia che arcano non è strettamente necessario più che altro sono interessanti le carte fulmine che non ricordo nemmeno se abbiamo equipaggiato piazziamole ok va bene non sono tantissime ma ci possono bastare dove cavolo sto andando mi sto perdendo molto nel cincischio e non va bene non va bene andiamo nel concreto andiamo ancora all'incubo del cacciatore e poi ci ritroveremo direttamente ammesso che io non trovi appunto una strada secondaria che potrebbe sconvolgere tutti i miei piani poi ci troveremo ad andare ad affrontare ludwig mi sembra di aver esplorato più o meno tutto ah ovviamente che sciocco dobbiamo anche sbirciare le descrizioni e il moveset delle armi che abbiamo pescato come sapete io ho sempre difficoltà col menu allora abbiamo trovato che non avevo letto il safe del cacciatore di belve che sembra comunque la sega dentata allora un'arma utilizzata dai vecchi cacciatori una seconda lama è situata nella curva della principale nella sua forma iniziale il safe può essere impugnato come una lunga spada ricurva quando trasformato la lama si contrae permettendo affondi rapidi e ripetuti nonostante quest'arma fosse ideale per il combattimento adattivo è stata sostituita da seghe di armi simili ritenute più efficaci contro le belve ah ok perfetto e qui mettiamo il braccio di amigdala perché sono curiosissimo questa è geniale veramente il braccio di un piccolo grande essere amigdala in senso stretto il braccio di amigdala non è propriamente un'arma ma alcuni fogli lo impugnano come clava a prima vista appare come una grossa arma smussata formata da ossa ma quando viene stesa la mano si agita come se fosse viva uh 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 i chi piace però prima questa eh allora vediamo un po' ha un moveset di partenza che sembra quasi più una frusta che una spada più da da sciabola ok non è poi così veloce eh non è poi così veloce ma questa è già la parte estesa e vai sono un grande sì ok questo è l'attacco veloce perfetto anche quest'arma dunque non si impugna a due mani ho capito posso dirlo? non mi piace allora tu ciccia spaccatrice di vaso ah 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 una clava da troglodita ci piace quanta ignoranza in una sola arma boom eh 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 mmm very good wow c'è del tacchinaggio nella trasformazione di quest'arma uh è tipo è tipo una spada ma una falce ma una frusta ce le ha tutte aspetta un po' bello ma non bello come questo non bello come questo perché devo dire che questa la sega girandola vince per ora perché l'attacco normale non è che sia nulla di trascendentale e via dicendo è una mazza rapida ma la cosa veramente figosa dov'è qua ce la posso fare allora così attacco normale così attacco caricato ok ma essendo un'arma a due mani la si può anche tenere come decespugliatore e vi garantisco che è molto molto divertente finché avrete stamina la sega continuerà a girare e a far danni un'ottima arma un'ottima ottima arma a me è piaciuta un frappo va bene abbiamo cincischiato abbastanza dobbiamo andare a finire di ispezionare non ho equipaggiato anche la shabagash no vabbè ok perfetto dobbiamo andare a finire di esplorare la nostra bella caverna ok pronti a rimorirci perché non sarà un problema sacrificare le nostre sapide chiappine e poi vedremo appunto se c'è una strada che continua da quelle parti ok ok no 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 non molto ok non molto ok ho avuto giorni migliori attimi più sereni e io mi fermo anche a curarmi sono pazzo come un equino basta ragazzi basta far casino per cortesia lo so di sicuro c'è un modo migliore per passare di qui senza farsi scorticare le chiappe da chi che sia e qual si voglia ordunque ma non è una cosa di cui ci occuperemo ora allora io non sono come ho detto sicurissimo al 100% che ci sia ancora roba da raccattare wow comitato d'accoglienza in piena regola allora qui sotto ce l'avamo stati non puoi prendertela con le bestie santo cielo e qua sotto si finisce esattamente dove eravamo prima quindi oh niente quindi la grotta è tutta qui presumo che uccidere questo cacciatore sia una cosa suicida ma al tempo stesso redditizia perché per essere così difficile ci vogliamo provare tanto che abbiamo da perdere la vita direte voi no 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 interrompe anche l'attacco lo stronzacchio sapete che adesso mi cincaponisco e ci tento ancora una volta lo sapete vero e voi direte silver devi andare a fare amigdala lo so ma non sto facendo una guida per come risolvere il gioco la svelta sto giocando quindi se voglio imparare bestiemie nuove voglio provare anche a scassare questo cacciatore nel frattempo io ve lo chiedo se mi vedete saltare cose lasciare in giro cose interessanti e robe simili ditemelo che io torno indietro a pigliarle perché logicamente io non so niente non ho visto video di gameplay altrui sto sperimentando a cazzacci miei e quindi yeah non so se faccio bene a lasciare in vita quel tizio non so se un giorno ci aiuterà non so davvero niente ok mi sa che stavolta siamo scesi un filino meglio si certo ok come ricredersi in un amen sto sprecando più fiare di sangue per incaponirmi per niente solo perché voglio provare a ammazzare il tizio con la getling ma non tanto perché mi stia antipatico e che dentro di me sta intimamente sperando che me la droppi e voi mi direte no silver ta drop ma io sono cocciuto e ci proverò lo stesso recuperiamo le nostre anime inutili allora 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 vediamo un po' quanto efficace potrebbe essere il girare attorno a questo tizio poco efficace molto poco efficace ok il buio non aiuta ok il buio non ha aiutato nemmeno lui con un pochino di pazienza forse possiamo anche combinare qualcosa di decente no 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 ehi ma perché tutte le porche volte che dico qualcosa dove essere smentito nell'arco di uno sputo ok perfetto quanto vorrei avere le mie belle vecchie armi no si si upavano anche con l'arcano e via dicendo ribadisco un pochino di pazienza e forse combiniamo qualcosa di decente no 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 si è curato pure lui figlio di ok ok perché avete visto che pezzo di stronzo si è slocato al momento giusto e me l'ha messa nel secchiello putridamente no e che cazzo ok no no non farti ammazzare adesso per cortesia ce l'abbiamo fatta il mio incapponimento ha pagato mitragliatrice si mi sento come se avessi risolto un sudoku si no vabbè forse mi sento anche meglio di quando ho risolto un sudoku la pelle d'oca proseguita ci terrei a dirlo allora vediamo un po' se riusciamo a non farci scatafottere e ammazzare questo era un cadavere si di quelli che aveva gli oggetti vediamo se riusciamo ad ammazzare gente e infiliargli cose in posti e riempire la nostra vita di altre giornate proseguendo nel nostro esistere eccetera porca hai tentato di farmi la paura ma adesso sei tu che hai la paura ti stai cacando sotto lo percepisco dal tuo animo dal tuo animo tristo ma se io faccio ti strino il pelo eh c'è puzza di culo bruciato qui ora si ed è il mio mi ero dimenticato che c'era questo coso abominevole porca perché me lo sono dimenticato in maniera così idiota no quanto cazzo corri no ma state scherzando oh porca dove stai preferivo non saperlo dove stavi potevi continuare a starci tranquillamente no ehi ehi molto bravo molto bravo molto bravo cuccia cuccia fuffi fuffi a cuccia ho detto cribbio porca cazzo muri i miei nemici preferiti bene direi che lui lo possiamo tranquillamente lasciare in pace anche perché oddio mi sorge un dubbio di nuovo ci sarà ancora il tizio con la mitragliatrice nella grotta ora che abbiamo fatto saltare in aria in aria al pregepe vabbè ci teniamo il dubbio io faccio un piccolissimissimo taglia e cuci passo dal sogno del cacciatore sistema una gemma e ci vediamo dal falò di lu ludwig ed eccoci belli che tornati allora piccolo cambiamento ho messo l'abito di eric perché mi andava e ho provato la gatling la voglio assolutamente testare contro ludwig però prima di riesumare riet come vedete ho già speso anche due punti intuizione per potenziare di un punto l'attacco appunto della gatling prima di avere a che fare con lei voglio far fuori lui così da evitare che lei mi si perda nella pastura del tentare di far fuori sto coso grazie fai schifo te l'ho detto mai ma schifo vero proprio schifo ucacchie che bello se fai l'attacco in salto non ti colpisce oh che fecata allora wow grazie torna tutto buono qui mi pare che non ci sia niente di interessante per cui valga la pena di sifonare pure lui così a naso direi che abbiamo raccattato più o meno tutto quello che la zona aveva da offrire ripeto ragazzuoli se così non fosse datemi pure delle dritte non ditemi per forza dove sono situate le cose che mi piace scoprirlo ma ditemi silver torna indietro perché hai lasciato una cosa importante ecco quello fatelo tranquillamente allora non ci casco nemmeno morto un'altra volta a venirti a cercare di là ci siamo andati là sotto abbiamo visto che ci sono i merli là sopra c'è il cacciatore che viene a farci le chiappine sapidamente direi che possiamo tentare di evocare Henriette senza tanto titubare che abbiamo già dato in merito io spero di farcela se non dovessi farcela ce la faremo nel prossimo video non abbiate paura riusciremo prima o poi a superare tizio ci proveremo eventualmente anche da soli no che cavolo sto facendo non devo cambiare l'arma ecco vieni ciccia vie ciccia lo so che non si fa ma sprechiamo subito una fialetta di sangue qui ricordiamoci sempre avevo sbirciato dal lato di qui parrebbe di sì poi dovrò capire anche perché lei tiene accesa la torcia mi affascina questa cosa ok voilà bravissima vai a farti spaccare dai merli ottima zona di farming per le fiale di sangue direi che possiamo andare se non hai altri casini da combinare ok sbirciamo sempre che non ci sia indietro roba perché perdersi un vicolo una viuzza è un amen abbiamo già visto come sia facile sbagliarsi allora abbiamo detto carta del fulmine che mi è stata consigliata vediamo se avremo il tempo di usarla più che altro allora ok se partiamo così direi di no che non avremo il tempo di usare un'anima di niente non toglie un cazzo il gatoring perfetto ok wow vai via vaffanculizzati ehi cicciocoso oh non lo colpisco una volta e non è buggato adesso proprio io che sono un disastro di mira vai chiapponato no no ok ascolta lo so che non dovrei farlo dovrei resistere alla tentazione vai perfetto arato come un campo di patate però diciamo che la boss fight per noi si sta allungando un attimino abbiamo qualche speranza di farcela voglio provare ancora una volta a vedere se riesco a fargli le chiappine da solo per vedere l'entità del danno che gli facciamo quando riusciamo a colpirlo e quanto è difficile perché giustamente la sua velocità è il nostro tallone da killer perché imparare nel moveset potrebbe essere diciamo la carta vincente però è troppo veloce per perdersi a imparare nel moveset insomma sempre il solito discorso del cane che si morde la coda e si mangia le orecchie che è una cosa brutta da vedersi lo so però che ci volete fare inoltre questa cosa dei ciotoli i ciotoli sono stati nerfati di brutta maniera e prima erano davvero ma ora dato che li troviamo comunque in dosi massicce abbiamo detto che gli facevamo poco danno ma gli equippo per l'eventuale prossima boss fight con l'aiuto di ariette allora dai perfetto ok allora da quello che mi è parso di intuire è più consigliabile stargli di là vai no ma che va bene ho intuito giusto ok ragazzuoli facciamo che ci vediamo nel prossimo video e tenteremo di sconfiggere Ludwig come si deve perché così non si deve respiri profondi molto profondi bravo Silver ciao poi fa sono abbastanza sicuro se accettano consigli poi fate come volete io non vi ho detto nulla intanto mi raccomando spolliciate incitatemi fatemi forza e condividete il mio dolore ciao ciao ragazzuoli ciao